ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono TONY GAME DICESS ragazzi oggi vi mostro come attivare un prodotto su Steam ok ragazzi allora passiamo direttamente al tutorial senza dire niente quindi vi spiegherò esattamente come acquistare un prodotto su Steam non so a 20 euro 19 15 10 5 euro beh dai allora il sito che vi consiglio è eccolo iniba.com allora grazie a questo sito sono riuscito a prendere un'esternica ecco qua questo gioco sta a 60 euro e l'ho preso a 20 euro allora come fare? innanzitutto vabbè è semplicissimo allora acquistate un gioco una volta acquistato uscirà mostra la chiave quindi una volta fatta la transazione tutte quelle cose dopo l'acquisto uscirà il fatto che bisogna mostrare la chiave quindi tu tu vai su mostra la chiave e lì esce una chiave bella lunga veramente bella lunga quindi una volta copiata non ti basta che andare su Steam questo è un tutorial per i principianti che hanno appena cominciato a usare il loro PC quindi non vogliono buttare 100 euro per un gioco quindi vogliono spendere solo 5-10 euro quindi io non dico niente di chi sta guardando questo video anche se è un professionista per favore non mi dire niente allora andiamo sulla nostra libreria e andiamo a mettere aggiungiamo un gioco ecco qua attivo un prodotto su Steam quindi attivo un prodotto avanti accettiamo il contratto di sottoscrizione a Steam e codice prodotto fatto semplice e metti in copia e in copia hai fatto una volta fatto si caricherà farà un piccolo load quindi un caricamento piccolo semplice il gioco è fatto avete comprato il gioco a 5-10 euro invece di 100 euro vabbè poi dipende dal sito se il sito ha dei buoni sconti oppure ha delle grandi offerte vabbè ho chiudo e Death Stranding io ti adoro 15 ore di gioco veramente fenomenale io ve lo consiglio giocateci veramente strepito quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video mi raccomando iscrivetevi se questo canale vi interessa e lasciate like se il video ti è stato utilissimo quindi ciao ciao